ben ritrovati di nuovo su reviewing you oggi vado a recensire un orologio al quarzo con un quadrante bianco marcato context l'orologio arriva all'interno di questa scatola di cartone adagiato al di sopra di un cuscinetto di stoffa bianca insieme ad un panno in microfibra azzurro e a un libretto di istruzioni in lingua inglese e cinese abbiamo un orologio al quarzo ovvero un orologio con scansione temporale controllata attraverso l'ausilio di una batteria che indica in corrispondenza del quadrante ore minuti secondi e giorni del mese sul lato destro della cassa abbiamo una corona con presenza di zigrinature che permetterà con uno scatto verso l'esterno di impostare la data mentre con due scatti verso l'esterno di impostare l'ora in termini di dimensioni abbiamo un diametro della cassa di 3,8 cm ed uno spessore di soli 0,6 cm abbiamo poi una lunghezza del bracciale di 19 cm e una larghezza di 2 cm infine il peso è veramente leggero si aggira infatti attorno ai 40 grammi per quanto riguarda i materiali abbiamo un fondello e una cassa in acciaio inox sul fondello inciso il nome dell'azienda e le scritte 3 atmosfere e style e stile ovvero quelle che sono le principali caratteristiche dell'orologio abbiamo poi una corona con la presenza di zigrinature che appunto prevede di impostare le ore e la data e l'esterno laterale della cassa e inoltre delle stesse zigrinature della corona abbiamo poi un vetro hardless completamente piatto una tecnologia come visto waterproof fino a 3 atmosfere che consente l'esposizione dello stesso agli schizzi d'acqua ma non di effettuare immersioni sott'acqua il quadrante vede nel complesso uno sfondo bianco al centro abbiamo invece una lavorazione guilloche bianca come potete ben vedere e la presenza della scritta in stampatello nero disegnata context mentre in basso abbiamo una scritta sempre nero disegnata quartz abbiamo poi indici rappresentati da delle lineette nere disegnate che indicano i minuti abbiamo poi i numeri romani in blu in rilievo ad ore 12, 3, 6, 9 e abbiamo infine dei diamanti piccolini inseriti in una circonferenza blu ad ore 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 inoltre al di sopra degli indici delle ore sono presenti dei piccoli pallini bianchi che con il buio si illuminano eccoli qua quanto riguarda le sfere abbiamo sfere a bastone dei secondi, dei minuti e delle ore color blu abbiamo poi un dataro bianco con circonferenza blu abbiamo un bracciale inoltre in vera pelle nero sulla parte davanti con i fori per la regolazione mentre sul retro abbiamo una colorazione beige con scritto genuine letter che indica quindi che si tratta di vera pelle e poi la marca dell'orologio e abbiamo alla fine due passanti neri uno fisso eccolo qua ed uno mobile che ci permettono di inserire all'interno il cinturino dell'orologio abbiamo poi per concludere una fibia in acciaio dello stesso colore della lunetta con la scritta dell'azienda concludo la recensione dicendovi che secondo me è un orologio estremamente elegante visti i numeri romani i piccoli diamanti sottile e sicuramente dal peso leggero tant'è che sembra di non averlo nemmeno al polso e sicuramente dal peso leggero Grazie.